Io ho deciso di sostenere le ragioni del SIP per un motivo un po' strano. Un paio di mesi fa ho iniziato ad interessarmi ai contenuti della riforma costituzionale e devo dire che forse un po' suggestionato da questo continuo no, questo parlare di deriva autoritaria, antidemocratica, un pochino ci avevo creduto anch'io, essendo prima disinformato della materia. Dopodiché mi è bastato leggere i contenuti della riforma, leggere alcuni dei commenti in materia per rendermi conto che si trattava di una bufala colossale. Quindi ho deciso di sostenere le ragioni del SIP, non solo perché credo fortemente in questa riforma costituzionale, ma anche secondo me per un dovere che abbiamo tutti quanti nei confronti dell'onestà intellettuale, del dire le cose come stanno, del dire le vere ragioni per cui questa è una riforma da sostenere. Io mi chiamo Lorenzo Minganti, sono sindaco di Minervio.